Ora c'è una notizia che sta prendendo sempre più piede negli ultimi giorni, sta prendendo sempre più corpo, come dico io, nelle ultime ore, ok? C'è stata la Luglione in Romagna, le polemiche sulle parole di Bonelli, le parole di Bonelli stesse, l'Hashline, le indagini, Musumeci e Meloni e Salvini, Open Apps, ma questa è grossa, questa è veramente grossa, che colpisce anche questo governo Meloni, la credibilità di un governo in sé. Anni fa si è vissuta un'epoca davvero triste per il nostro paese, doveva essere più che altro una rinascita, c'è stato il boom economico, poi c'è stata la guerra di Piombo negli anni 70, anche negli anni 80, poi ci sono state le stragi di mafia. E soprattutto un uomo, stato un simbolo comunque dell'integrità morale del paese, dell'integrità politica, dell'integrità politica, dell'integrità comunque della giustizia, che è stato fatto fuori da un certo rina, e la sua banda, bestia a voi, in alto i 600.000 iscritti, attiva della Caprera sotto per ogni aggiornamento, di cuore, grazie a tutti voi. Poi, signore e signori, Rita dalla Chiesa ha denunciato, senza però fare nomi, ufficialmente, figlia del noto generale della Chiesa, ha denunciato ufficialmente dicendo che io so che mio padre è stato fatto fuori, sì da Rina e dalla mafia, da Cosa Nostra, per fare un favore a qualche politico. Ha un politico, riferimenti tutti verso Giulio Andreotti, chiaramente all'epoca, no? Criticato all'epoca dalla Chiesa di non essere proprio di democrazia cristiana, di non appoggiare Andreotti, e di mettere il bastone tra le ruote in tutti i modi. Il figlio di Giulio Andreotti, però, al momento, ufficialmente, secondo gli intenti, vorrebbe denunciare dalla Chiesa. Ma in realtà, per il momento, ancora non lo fa. Secondo voi, queste parole di Rita dalla Chiesa avranno veramente un seguito, daranno un sussulto importante, scuoteranno questo anche attuale governo, il governo di Giorgio Meloni, oppure no? Anche perché dalla Chiesa ha ufficialmente detto che si è stato fatto un favore a un politico, ma non ha fatto comunque il nome. Quindi, anche il figlio Andreotti, che cos'è che potrebbe mai andare a denunciare? Ah, però intendeva mio padre, ma l'ha fatto il nome? No, e allora? Ditemi la vostra nei commenti.